Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi siamo al Sacrario di Tsurakamika, il ferro nascosto. Vediamo come completarlo e prendere anche tutte le ceste. Allora, il Sacrario si trova qui, a fianco allo stalaggio del Canyon Gerudo, sta proprio sotto la torre del Canyon Gerudo, all'ingresso delle terre Gerudo, in basso a sinistra. Ok, detto tutto ciò, vediamo come risolverlo. Innanzitutto qui c'è questo dispositivo elettrico con questa sfera elettrica, un'altra sfera elettrica, un'altra parte che dovrebbero far azionare quella ruota gigantesca. Allora, usiamo l'ultramano, mettiamola così, colleghiamo. Scommetto che quando ci avete provato voi dopo si sono scollegate le sfere. Mettiamolo nei commenti. Usiamo la ruota. Sono sicuro perché mi è successo cento volte pure a me. Ok, detto tutto ciò, qua ci sono altre due sfere. Una la mettiamo a fare il pendolo. E mentre pendolizza, prendiamo quest'altra, la facciamo azzeccare. E anche questo puzzle è risolto. Allora, adesso andiamo di corsa qua, e con Ascensus dovremmo riuscire a salire sopra. Questa cosa non capisco perché l'hanno fatta, perché, vedete, hanno fatto questa cosa che questi pilastri entrano e escono a due alla volta. Mi sembrava una complicazione inutile, però, con denti l'oro. Allora, là sopra c'è lo scrigno, adesso andiamo a prendere. E visto che dobbiamo, facciamo un reverto qua sopra, e intanto, nell'attesa, vi ricordo che se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Vediamo che c'è. La borsa è piena, naturalmente, figurati in un senso proprio... Ma io già lo sapevo. Ok. E adesso dobbiamo mettere... Dobbiamo chiudere quest'altro circuito per aprire il portone utilizzando questa sfera qua. Il problema è che ci manca o qualche cosa per collegare quei due cosi, perché, se vedete, la sfera non si attacca, non si può fare collega, vedete? Non funziona. Allora, il ferro è nascosto. Infatti sta qua. Tanto Moke non funziona più la ruota, non fa niente. L'importante è che riusciamo a collegare questo. Adesso, mettiamolo qui. Se mettiamo la ruota sotto... Provate, ragazzi, però non funziona. Se invece la colleghiamo tipo così, dovrebbe andare molto, molto, molto meglio. Ta-da! Il tutorial finisce qui. Vediamo se abbiamo preso tutto. Dove sta? Sì. Abbiamo preso tutto. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti